Ho studiato storia della filosofia all'Università di Macerata e ho poi fatto un dottorato in diritto internazionale all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. I miei interessi di ricerca fondamentali riguardano la storia del diritto internazionale e soprattutto le idee di diritto naturale in età moderna. Nel mio anno qui in fondazione ho studiato la ricezione proprio di alcuni aspetti del diritto naturale protestante nel pensiero di Luigi Tapparelli d'Azeglio, fratello di Massimo e principale ispiratore e fondatore della dottrina del diritto naturale cattolico italiano.